Allora prendo Ghost e uso i piedini lesti per doggiare l'espell Oppure prendo il Flash per flasciare l'oltre di Sejuani e l'ingeggi di Rakan No il Flash è segue me Mi stai sfidando così Sciocco sei No quindi Flash Sciocco sei Ultra Rakan Ma perché io predicto quando li vuole entrare in Ghost prima E faccio Piedino a destra, piedino a sinistra Piedino giù, piedino su Andiamo a invadere Andiamo a invadere Prendo livello 1 Bello performante Darius spinge Oh 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 Namikon Ignite Non c'è Exhaust Wow Questa è offensiva Nami offensiva E lei E lei E lei E lei Non lo so io ogni volta che vedo una Nami Un pezzo nel mio cuore cade Oh ma questa è OTP Nami Aggressive laner dice di Nami Professor Dico solo questo Dovrei cominciare a chiedere che non le dite le fanno a tutte le Nami Voi lo potrei farlo Tipo Hello Can you give my number? Così Basta Questo è il mio metodo Vabbè ci sta tanto se dice no Dici tanto E con altre Nami dopo non è un problema Sì esatto Gli dico gli OPG E ho fatto Stonks Funziona eh Stonks Stonks Pingata E si va Darius Ghost And Someone Sì Guarda la Nami Lezza C'è dietro Vai Darius Ahia Oddio Vabbè Posso dire una cosa Questa cosa andrebbe fixata Lo penso da quando esiste Cioè non è stupido Quando uno arriva late Però arriva comunque con il buff Quindi c'è Sono queste situazioni in cui il tizio che è in ritardo Piesce a salvarsi Perché ha la speed Ma non ha senso Cioè se è in ritardo non dovrebbe essere premiato Cioè La speed dovrebbe essere all'inizio E basta Non è che quando esci la base ce l'hai E poi se esci con 20 ton di ritardo È proprio stupida come roba Ma un sacco di volte l'agenzia lo fa così È proprio una roba che Cioè Premiato per essere AFC Ok bro Vabbè Poi sono andate le scrim Una vera merda ieri Però siamo pronti Dovevo startare bot Se ti mannaggia a me Invece ho startato dal lato sbagliato Vabbò Riuscirò comunque a clearare per un po' sad Io ti aspetterò Con calma Ci vorrà tempo I versari mi hanno guardato Se no dove sono Se no ci trovi ho startato Secondo me è bot Bot non hanno lasciato Se non è startato bot Che è anche reldarione Pieno se la cavia solo il bro Ah ho stato rollando io Posso invitare a non rollare Allora Anche Gino ha rollato fortunatamente Non mi Qualcosa Ah va bene It's fine It's fine No tilt No flash lui Pro cleanse Piccolo disastro Man what the fuck am I doing Potevo tranquillamente Ammazzarlo anche la cam Andava bene Oh shit man Ti hai detto tua bed Che cazzo dice Mai hai visto le misspelle dove ho tirato No E meno male Sicuramente non dovevi morire Ma io potevo uccidere Rakan Potevo andare su jeans Direi ti ammazzare Voglio andare out Però io volevo la lava Il kill Se no me anche si poteva fare Ma io non posso attancarmi Tutta questa roba Qua c'è una seggio Maialina Vabbè ma io sono fine No però Corky non è fine Un po' sfortunato Ma anche un po' Dumbless fuck Il Corky in realtà Non so L'esfortunato Diciamo la verità Qua si può fare male Ragazzo Avete la praio? Sì No sale blank Non so se skippa la mid Però potrebbe essere Molto interessante È morta adesso qua No abbandonami Ah ti dirò Non è bad sta roba Non è bad No ma io Non posso fare niente Questo tipo Cioè No ma non è bad Abbiamo preso esperienza mid Ha perso Expo le blank Per venire qua straight Io non ho perso campi Ti dico In realtà Chilling sto trade Cioè anche se sulla carta Sembra bad Alla fine quando muori Uno per zero Però io dico L'esperienza hanno perso loro Secondo me è ok Ovviamente non è positivo Ma non è così bad Cambia quasi niente Bot non è facile Quando hai Nami support Chill man chill Qualcosa di buono farà Anche se cioè Secondo me non cambia un cazzo Perché se Non è nami un'altra cosa Comunque essere un bot Il player Un bot leona Probabilmente è meglio di una bot Nami Su questo non d'accordo Ovviamente Però Eh le blank è un po' un problema No no bro Guarda la sua vita Non sta combando Se non fate niente Noi bot lo utilizziamo Sì sì Andiamo out Andiamo out Ho preso il primo Comunque dei void links No raga Non dire Vieni qua Questa raga Non può rompicazzo Nesta mente Raga No raga No raga Ignite No raga No raga Oddio Serve una manqua Che cazzo di da planca Cambiamo Out che arrivano i boys Dalla base Incattiviti Potrebbero invadermi due In caso lo give up Perché raga Mi sembra abbastanza Sveo Shit man For sure mi invadono adesso Questi tumulti di piume Vabbè give up dai That's ok Fa niente Abbiamoci so top Che è nice Abbiamo la maschera E siamo head ora Rispetto all'ora in gold Sicuramente Ok Ora siamo tranquillo Ma Io ero sempre tranquillo Perché sia estra E avevamo head Tutte le lane in realtà Cioè guarda Siamo 30 sopra mid Siamo 20 in jungle 20 top 10 bot Siamo alla fine Heading gold Sì no è vero Quello che stanno smugfando Ma si fa Si fa quell'oggetto Se ci vanno i text item Non penso Diciamo che sì Puoi farlo primo item Però Cioè nel senso Non solo che io non Builderai mai La roba con il primo oggetto Competitive Ci sta Discrete stats Da sap Participate Ma aiuti gli altri Se ci vanno alla fine Utility Poi in genere Quello Warmog Quello Senna Nervi Chilling Io ci sono bottola Ulti in venti Poi possiamo devare Però se tradate È interessante Oh oh Morto Oh sono i void grabs Quasi fanno male Allora i boys Aspetta Voglio prendere assist E te No sti cazzi Sti cazzi Prendi In realtà posso anche restare Cioè gli avversari Le blank Le blank è super weak È tipo un minion Le blank Guarda c'ha un lost chapter Cioè È good Io still vado Potevo fare un po' di meglio Però Volevo fare morire Sì Eh però c'è il card In realtà C'è il tp Addio bro Mori tu Ciao Ciao Ma lo uccidiamo Ma uccidiamo Fai schifo Mori crepa Bastardo No scusa È che quando l'outcome è incerto Meglio No 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 Io la tiro dritta Io adesso cammino Non sto scherzando No Prego Lazzù No No Questa è un dobbio di fare Brutto gesto Brutto gesto No Tu non hai idea Il prossimo game Picco Grave Ah No 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 Questa sarà la prima challenge From 100% win rate To 50% La prima al mondo Le scuole Uh Minami può baitare Mi piace Yammy Yammy Oh ma questi vogliono andare Ma come cazzo si promette Che arroganza Uh bel fight Bel fight Boom Esplosioni ovunque Io sto solo trovando Lo spot In cui ti dico Vado vado E poi Sei da solo in mezzo A quattro persone E vabbè Che sarà E arriverà molto presto Che rancoroso Però non ci fa bene Vivere così No No però Non mi va neanche bene Essere venduto Ma poi era proprio gratuito Cioè Era veramente Era difficilissimo Era tipo Un 20-80 Cioè io cos'è 20-80 Quasi Che vuoi che Ti faccio in 100 game Era il digno Ed è fatta Lui non ha ancora preso un assist È il povero corchi Sta combattendo Contro i minion Non corchi Nerd chilling Nerd chilling Zero kill participation Ah Peter Missato sto bad Non ci credo Tell to burn Che schifo il tempio Ma poi ti arrivi Aspettando di cagli O sbaglio No no Era tutto in cd L'avevo già missato La cover to sound bad Stannato scemo Oddio garen Che cattivare hanno vita Vado Vedere la play Ha No non l'ho preso Sta tiltato Il bro Sta tiltatissimo Mamma mia Prima che c'è Certo Uh Costo 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 Brum 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 Oh no Mi ha plenato il nuovo Oh cazzo Le doggio tutte Le doggio E E E E E Mamma che faker Peccato Che faker Paracorki 031 Lima Oscar Lima Corchi teleport Attenzione Vuole partecipare Ha capito che può anche colpire i player avversari Vediamo il flank Lima Oscar Lima Sul side C'è uno di corchi sul side No corchi mi è successo È successo un casino No ma era appena sparato alla base Griefer maledetto Che non sei altro Però sto venendo Maybe I can fix you Vedate vedate Interessante Interessante E Interessante Non ti rubare i miei kill Brutto maiale Era già morto Vabbè No non era morto Certo Per centra morto Era morto Per centra Andiamo al naccio Inspezione la call Vede le situazioni Di fermare qualche altro campo Tipo questo O vuoi questo O facciamo Siamo a fare anche un obiettivo Attenzione Macro gaming baby Io 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 becco al volante Proprio Mi sa che faccio la wave E becco Oh shit Oh shit Ma le blanca La man mano Ha E' morta Brucia Noo Rakan Vabbè Rakan Broken champion Non di abbandonare Nami Cara Avanti Vai jumpare da lei Vai Vai Jumpa da lei Avanti Fallo 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 Se il coraggio Avanti Jumpa Da le blanca Vai Vai Jumpa Jumpa Lì Se il coraggio Jumpa I fucking Dare you Come è il cooldown La carica Nami Che cacchio Combinato And driving beat Going nexus baby Woo Yes baby Big Fazzito cacchio Fortissimo eh Dopamina Questa era un sacco di dopamina L'ho capito dal big Grande win Grande win E andiamo Andiamo Oddio Spam Posso avere una clip Del incredibile ingaggio Promoted to emerald Ce l'abbiamo fatta ragazzi Non siamo più più slow E andiamo Andiamo We did it Il vele che è riuscito Era geniale We did it Geniale Roman 30 lp 30 lp Li prendo sul main account 30 lp Io mi sa che ho fatto 34 Ma non ha senso Riot Can me fix it Riot Ami c'è cara Ami c'è cara Voglio vedere subito così Te lo faccio pesare Ero a 72 Il mio maestro 34 Per quello che mi ha fatto questo game Cosa mi merito? I 30 lp Ah Il prossimo game Non mi merito 29 29 29 brutto gesto 29 brutissimo чего mi f behaviour εκicheladio? Il prossimo game Guru Vallo Tom Num P малень Inni